Roberto Panozzo, giovane calciatore deceduto a 14 anni a Teglio Veneto. La sua perdita è sentita profondamente dai suoi coetanei e compagni di squadra. Il talentuoso attaccante è venuto a mancare nella serata di mercoledì 12 giugno a causa di un tumore. La triste notizia è stata condivisa dalla società calcistica Comote dove Roberto giocava nelle giovanili attraverso un post su Facebook. Roberto lascia i genitori e un fratellino. Con immenso sconforto apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Roberto, si legge nel post, il direttivo del progetto Comote. Unitamente alle tre società che lo compongono esprime le più sentite condoglianze a mamma, papà e al piccolo Alessandro. Un abbraccio forte anche ai nostri ragazzi dell'amata 2009, i suoi amici nel calcio e nella vita. Ciao Roberto! Ciao Roberto!